Ciao bambini, oggi io e Chiara abbiamo deciso di proporvi un laboratorio ispirato all'albo illustrato mio amore scritto e disegnato da Beatrice Alemagna pubblicato da topi pittori guardiamolo insieme dentro a questo albo illustrato troviamo la storia di questo animaletto strano è un animaletto che fa un piccolo viaggio e nel suo viaggio incontra tanti altri animaletti strani osserviamolo com'è strano guardate ha gli occhi infatti con due bottoni due bottoni diversi ha un occhio ha pure una macchia blu sotto poi ha delle orecchie una rossa una rossa ma un pochino più chiara poi ha delle zampine una rossa un'azzurra strisce poi a tutti dei pelini che l'autrice ha proprio ricamato con il filo buffo vero guardate poi questo animaletto nel suo viaggio mentre incontra altri animaletti strani come lui guardate come cambia qui è diventato di un colore un po più scuro gli occhi adesso sono uguali sempre fatti con i bottoni le orecchie sono uguali fatte di un tessuto un po' violascio e anche le zampine sono cambiate è sempre lui è il suo percorso mentre incontra altri animalini un po cambia forse come cambiamo anche noi tutte le volte che incontriamo amici nuovi guardate anche bellino questo amico che ha incontrato adesso guardate come è fatto ha delle specie di spine qua che finiscono con con dei glitterini guardate bellino la sua gotina rossa le orecchie delle macchie verdi datelo attentamente perché osservare bene come sono fatti questi animaletti ci aiuterà a fare il laboratorio che adesso chiara ci presenterà ciao bimbi buon divertimento ciao bambini siamo chiara e abbiamo preparato un altro kit per voi per costruire un animaletto stranissimo dentro la busta troverete una base di cartoncina di recupero dei pezzettini di stoffa per costruire il vostro animaletto due occhi quindi dei bottoni che saranno gli occhi del nostro animaletto dei fili belluto belluto osi per fare la bocca se volete usarlo per fare la bocca se no potete fare anche altri elementi poi troverete un barattolino di colla per chi non ha il vina villa a casa e poi troverete anche altri fili per fare tutti i dettagli allora bisogna avere per fare questo laboratorio a casa pronti le forbici e pennello con queste due cose e la nostra busta kit potrete iniziare vi faccio vedere a per prima data si tira fuori il cartoncino che alla base poi si sceglie il pezzettino di stoffa io scelgo questo ora e si taglia con calma perché tagliare la stoffa non è facilissimo ma il tagliato piano e semmai ci si fa un po aiutare si sceglie la forma che vuoi che deve avere il nostro mostricino quindi con calma ci si mette a tagliare gli ora l'ho già tagliato e voilà poi si prende un altro pezzettino di stoffa diverso oppure se volete continuare con la stoffa uguale per fare le zampe oppure le orecchie la coda io l'ho già tagliato alcuni pezzettini e ci faccio le zampe e poi prendiamo i bottoni che saranno i nostri occhi e poi stiamo a mettere questo ferretto che può diventare il naso e questo filo vellutoso può diventare la bocca perché è proprio rosso quindi si taglia oppure si si dà la forma che si vuole e dopo che abbiamo posizionato tutti i nostri elementi come ci piacciono si fa varie prove si possono anche un po spostare io ho deciso di aggiungerci anche questa trina così almeno un po più buffo il mio limonetto si può incollare tutto per cui si tira su e col pennello si mette un po di colla non troppa tanto la colla poi quando si asciuga diventa anche trasparente per cui non vi preoccupate se fate un po di pasticcio questo è per attaccare la base poi attaccherò la mia antennina i bottoni che fanno da occhi il naso la bocca le braccia e il mio pelo tutto un po che svolazza il vento a voi poi naturalmente potrete usare anche delle altre stoffe del tutto quello che vi piace lo potete aggiungere e voilà ecco il mio animaletto strano io la lara ne abbiamo preparati anche altri da farvi vedere questo arancione buffissimo oppure questo che è simile a quello del libro buon divertimento 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 Grazie.